E quali sono le parole che ti fanno arrabbiare? Mi fa arrabbiare chi non ha le parole adatte per dire ciò che è, ma mi fa arrabbiare non con un senso di ira, non credo, posto che sia interessante la mia singolarità, non sono una persona propensa all'ira, ma mi fa arrabbiare chi non dà peso alla propria profondità. E allora uno è verbo che si è fatto carne, è esattamente le parole che pronuncia e che vuole che su di sé vengano pronunciate. E quindi la disattenzione nei confronti del verbo mi fa arrabbiare perché è un indice di poca cura di sé. C'è una poca cura di sé, difficilmente credo, anche se non sono un medico, riesce a prendersi cura degli altri. Per cui le parole anche non sentite dall'altro. Esatto.